Otto le persone che sono state soccorse questa notte in via di Colcitrone, dopo che qualcuno aveva spruzzato dello spray al peperoncino. Quella appena trascorsa è stata la serata delle cene propiziatorie da parte dei quartieristi, una notte di festa prima della grande sfida in Piazza Grande, da dove uno dei quattro quartieri della giostra del Saracino uscirà vittorioso con la lancia d'oro dedicata a Giorgio Vasari. Qualcosa però stanotte è andato storto. Attorno all'1.40 è stato diramato l'allarme e sono intervenuti gli operatori dell'emergenza urgenza in via Colcitrone, dove Porta Crucifera stava festeggiando. Qualcuno aveva spruzzato spray urticante. Sono intervenuti i sanitari con due mezzi BLSD e l'infermiere disaster manager per la valutazione sul posto. Condanniamo quello che è successo. Se pensate che tutta la settimana il quartiere paga 15-20 steward per la sicurezza e per il benessere di tutta la gente che viene qui in una scena propizzatoria, un giorno prima della giostra, succedono questi fatti, il consiglio e il quartiere lo condanna fermamente. Abbiamo fatto tutto quello che la prefettura, la questura ci ha chiesto in tutte le sue forme di legge, anzi abbiamo preso ancora più steward perché la gente, come avete visto, ce n'è tanta, però nella moltitudine dell'agenza c'è qualche duro che il cervello non connette e succedono purtroppo questi fatti qui. Complessivamente sono stati trattati otto intossichati per innalazione della sostanza urticante, con lievi irritazione di naso, gola e occhi. Sono stati tutti trattati sul luogo dell'evento. Mi dispiace parecchio anche perché diciamo che non va a vantaggio del quartiere e neanche della giostra.